Ciao, come stai? Io sono Claudio e lavoro qui a Blue Blue. Lo sai, questa mattina sono contentissimo perché Blue Blue è finito in prima pagina di questo giornale lituano. Non solo in prima pagina ma anche nell'ultima pagina. Siamo qui e anche qui. Hanno scritto un bellissimo articolo, siamo la migliore startup e quindi siamo molto contenti. Oggi festeggeremo qui in ufficio.